6 giugno 1944. Il mattino è appena iniziato e si sta per avverare l'incubo che aveva tormentato Hitler dall'inizio della guerra. L'incubo dell'invasione anglo-americana sulle coste occidentali e l'apertura di un nuovo fronte. Questo terrore per gli alleati ha un nome e si chiama D-Day. Si è parlato tantissimo dello sbarco in Normandia, di video e documentari ce ne sono un sacco. Ma quanto veramente si conosce di questa così famosa operazione militare al di là delle propagande politiche? E com'è possibile che i tedeschi dotati di linee difensive e fortificate e dell'esercito più forte del mondo siano stati sconfitti dopo nemmeno una giornata di scontri? Beh, scopriamolo insieme. Ciao ragazzi e ragazze, bentornati. Io sono Michele Gamba e questo è storico. Passati quattro anni dall'inizio della guerra, il grande momentum iniziale dell'espansione tedesca è ormai esaurito e l'avanzata della Fairmacht inizia ad incagliarsi su più fronti. In Russia l'operazione Barbarossa, con la quale i leader nazisti contavano di piegare il gigante sovietico, si è mostrata più complessa del previsto e la guerra, per i tedeschi, da offensiva si stava ormai trasformando in difensiva. Ciò che è peggio è che i tedeschi sono impegnati anche in Africa e in Italia, dove gli alleati anglo-americani piano piano stavano guadagnando terreno. Nella Germania mancano sempre più risorse, manca il petrolio, mancano le munizioni e iniziano a mancare anche i soldati. In questa situazione l'apertura di un nuovo fronte in Francia sarebbe stato un duro colpo al Terzo Reich e andava quindi impedito ad ogni costo. Agli occhi dei comandi nazisti, però, le invasioni in Italia e in Africa sembrano quasi una preparazione a qualcosa di più grande, qualcosa che Hitler in persona prospettava già da diversi anni. Il leader nazista è infatti convinto che i suoi nemici avrebbero tentato un'invasione della Francia per liberare il loro alleato e per chiudere in una tenaglia sovietico-alleata la Germania. Convenzione che, sebbene presente fin dal 1940, prende effettivamente corpo dopo l'ingresso in guerra degli Stati Uniti d'America, a seguito dell'attacco a Pearl Harbor nel 1941. A proposito, se vi siete persi il video andate a vederlo, ve lo metto qua sopra. Vi basterà cliccare nel link che vi metto. Non passa quindi molto tempo affinché Hitler corre ripari. Un anno dopo, nel 1942, è nominato Feldman Reschallo della difesa della costa occidentale uno dei suoi uomini più fidati e decorati, Erwin Rommel, e viene ordinata la costruzione di un'enorme linea di fortificazioni e strutture difensive lungo la costa occidentale, l'Atlantic Wall, o in italiano il Vallo Atlantico. E come vedete dalla cartina che vi propongo, copre tutta la costa occidentale, dal nord della Norvegia fino al confine con la Spagna. È chiaro fin da subito però che le risorse necessarie alla totale realizzazione dell'opera non erano sufficienti in tempo di guerra. Quindi il vallo finisce per essere, sì, un coperto lungo tutto il perimetro designato, ma il grosso delle misure difensive viene comunque progettato in quei luoghi dove era più probabile uno sbarco alleato. Primo fra tutti la regione francese di Calais. La regione di Calais infatti distava solamente 40 chilometri dalle spiagge inglesi, distanza talmente poca, talmente piccola, che avrebbe reso più agevole un eventuale trasporto di uomini e motorizzati. Milioni di tonnellate di cemento e migliaia di acciaio sono impiegati per la costruzione di un numero altissimo di bunker, di case matte, di postazioni d'artiglieria e di metragliatrici. C'erano interi campi costellati di filo spinato e di mine e per evitare l'atterraggio delle squadre aviotrasportate vennero rese inagibili in molte zone d'atterraggio, in particolare allagando le pianure considerate strategicamente più rilevanti. Ma non solo la terraferma era oggetto di fortificazione, ma anche le acque costiere sarebbero state costellate di mine subacue e diverse costruzioni per impedire l'avvicinamento e l'avanzamento dei mezzi anfibi. Insomma, si tratta di un sistema di protezione che, per quanto incompleto, comunque era ben corazzato e difficile da aggirare. Ecco, la maggiore criticità del vallo sta forse nel suo utilizzo. In un sistema di fortificazioni, infatti, la cosa più importante è che le difese debbano essere supportate dall'esercito. Esercito che però, negli ultimi anni della guerra, è sempre più impegnato sui fronti russo, africano e italiano. Le truppe a distanza in Francia, fino a pochi giorni prima dello sbarco, sono in particolare soldati in media più vecchi di quelli americani e inglesi, oppure i giovanissimi, e soprattutto dell'host legionen, scusate per le pronunce sbagliate come al solito, la divisione dell'est, formata da volontari arruolati in Mongolia e nei territori dell'est Europa, e che erano generalmente meno determinate. C'erano poi altre due grandi falle nella difesa tedesca. La prima era la mancanza dell'aviazione, e l'altra, la seconda, era la distanza eccessiva del dislocamento delle divisioni corazzate. Nel caso della Luftwaffe si tratta di un problema piuttosto inevitabile, in realtà, in quanto gli aerei tedeschi erano maggiormente concentrati nei suoi altri fronti e nella difesa dei cieli della stessa Germania, oramai sotto continuo attacco da parte degli aerei alleati. Per quanto riguarda invece i corazzati, la problematica è frutto di un problema politico-organizzativo, che poi rappresenta anche il vero grande limite della Fermat in più momenti della guerra. Quello che emerge dai più recenti studi è infatti la presenza di una contraddizione interna all'esercito tedesco. Se da un lato si trattava infatti molto probabilmente del migliore esercito per addestramento, equipaggiamento e per preparazione dei suoi ufficiali, dall'altro lato però, nella sua struttura complessiva, era lo specchio delle contraddizioni del sistema politico-burocratico o nazista, caratterizzato dall'indiscutibile volontà di Hitler, a cui non si poteva dare torto, ma che a volte ovviamente sarebbe stata strategicamente discutibile, e dalla sua tendenza a mettere gli alti comandi uno contro l'altro, a scapito di una coesione dell'apparato decisionale ad alto livello. Hitler infatti creava volutamente attrito e concorrenza tra i suoi sottoposti, per evitare che questi guadagnassero troppa influenza a scapito della sua. Il problema è che un tale comportamento andava inevitabilmente ad inficiare sulla logistica generale degli eserciti, che nel caso del fronte occidentale si traduce nella divisione del comando tedesco tra von Rundstedt, capo del fronte occidentale, e appunto Rommel, come abbiamo visto capo della difesa costiera. Il tutto c'entra con la questione dei corazzati, perché era proprio von Rundstedt a voler mantenere le sue divisioni corazzate nell'entroterra, con l'idea di tenerle pronte per farle convergere in massa nelle zone precise a sbarco avvenuto. Mentre Rommel sosteneva che l'aviazione britannica e americana, una volta iniziate le operazioni di sbarco, avrebbero paralizzato i movimenti delle truppe tedesche, bloccandole lontano dai trattori di battaglia, e voleva quindi portarle il più vicino possibile alla costa per affrontare il nemico al momento dello sbarco, richiesta che però fu evidentemente respinta, generando così il problema che dicevo poc'anzi. Bene, abbiamo visto la situazione tedesca, ora passiamo però a quella degli alleati. A capo delle operazioni di sbarco c'era l'americano Dwight Eisenhower, appoggiato dall'inglese Bernard Montgomery, che sebbene si sarebbe dovuto occupare specialmente delle operazioni di terra successive allo sbarco, in effetti finisce per accompagnare l'americano durante tutto il processo decisionale. La presenza di un generale americano e di uno inglese rappresenta un aspetto spesso sottovalutato, ma che in realtà è importantissimo, forse il più importante di tutti. Questo perché riesce ad appianare le difficoltà legate ad una forza formata da eserciti diversi, di nazioni diverse, che seppur alleate, possedevano interessi, valori, motivazioni differenti e che quindi diventava difficile da coordinare. La presenza dei due generali ha merito infatti di fungere da mediazione e di far collaborare l'esercito americano, quello inglese e quello canadese, in azioni coordinate che nella storia avrebbero avuto pochi uguali. Comunque, mentre tra novembre 1943 e il maggio 1944 decine di migliaia di soldati americani sbarcavano ogni mese nei porti britannici, causando peraltro non poche tensioni tra la popolazione civile, i soldati inglesi e quelli americani, i due generali, oltre a coordinare gli intensi addestramenti mirati proprio alle tattiche di sbarco, ragionavano sul luogo giungendo infine alla designazione della Normandia. Ora, ci si potrebbe chiedere perché proprio la Normandia, che è tutto sommato una zona lontana dalle coste inglesi, le cui spiagge sono spesso caratterizzate da alte scogliere e una zona peraltro priva di un porto ad acque profonde, che era essenziale per mantenere l'approvvigionamento alleato dopo l'invasione. Beh, la risposta è molto semplice in realtà. La Normandia era meno fortificata. Nei mesi che precedono l'estate è messa in piedi un'organizzazione logistica impressionante, che vedeva l'utilizzo di migliaia di navi, di mezzi anfibi, aerei di supporto e truppe aviotrasportate e, cosa più importante, il tutto era fatto in totale segretezza. A proposito, pensate che ancora all'inizio del 1944 gli stessi soldati alleati non sapevano dove e nemmeno quando sarebbero avvenuti esattamente gli sbarchi, così come erano pochi gli ufficiali a conoscere questi dettagli. È un'operazione veramente mastodontica quella logistica, su cui vi farei volentieri un video, se vi interessa fatemelo sapere nei commenti. In ogni caso, nonostante la sua segretezza, il continuo ammassamento di truppe americane in Inghilterra e l'arrivo di Eisenhower a Londra non fanno altro che confermare i timori di Hitler di un'invasione a ovest. E difatti, dopo mesi di preparativi, il 30 maggio 1944 Eisenhower darà il via alle operazioni. In tutti i reparti, ogni singolo soldato viene messo in stato d'allerta e messo in marcia verso i punti di raccolta ed imbarco. La partenza era fissata per il 5 luglio 1944, ma proprio sul più bello, un terribile contrattempo rovinerà i piani alleati, il meteo. Dal 4 giugno, infatti, violente tempeste si stavano abbattendo sul canale della Manica, rendendo impossibili le operazioni in mare. E qualche peggio è che le previsioni meteorologiche rimanevano pessime per i successivi 15 giorni. Ritardare l'operazione non era però un'alternativa considerabile per Eisenhower, sia per l'effetto che avrebbe avuto sul morale dei soldati, sia perché era molto probabile che, data l'enorme movimentazione di uomini e mezzi, gli alleati avrebbero perso così l'elemento a sorpresa. Quando tutto sembrava scivolare in un baratro dettato dal caso, però, ecco che le previsioni meteorologiche aprivano una finestra di speranza. Il 6 giugno il cielo probabilmente sarebbe rimasto calmo e con esso il mare. Si tratta di una vera e propria scommessa, ma sentita dai comandi alleati come inevitabile. È così che il 6 giugno i motori delle navi, dei mezzi anfibi e degli aerei sono messi in moto. L'invasione sta per cominciare. Prima di tutto la Royal Air Force e la US Air Force iniziano un bombardamento a tappeto sull'intera Normandia, anche se concentrandosi sulle spiagge dello sbarco e sulle strutture difensive che le proteggevano. Dopo gli aerei poi è il turno della flotta e, una volta a tiro, anche le corazzate alleate faranno fuoco. Quello che subiscono i tedeschi è letteralmente una pioggia di acciaio e fiamme che distrugge gran parte delle difese del muro atlantico, nel tratto che era stato preso di mira. In 4 delle 5 spiagge disegnate allo sbarco le difese sono letteralmente polverizzate. E vorrei fare anche notare che il bombardamento sulla Francia del 6 giugno, così come quali dei mesi precedenti, sono deliberatamente eseguiti per distruggere non solo le zone strategiche, ma anche le città popolate dai civili francesi. I danni alle strutture e alle persone sono talmente estesi che lo stesso Churchill, ad un certo punto, porrà al problema i comandi alleati. Churchill si preoccupava infatti che l'odio provocato dalle distruzioni alleate avrebbe portato il popolo francese ad allontanarsi dalla causa della resistenza e dalla collaborazione con gli alleati, essenziale una volta sbarcati in Francia. La risposta che Churchill riceve è però una sola, la guerra è la guerra e andava vinta ad ogni costo. Questo è un modus pensandi che ricordo tipico di qualsiasi esercito in campo dell'epoca. In ogni caso, dopo la pioggia dell'artiglieria è il momento del vero e proprio sbarco. Alle prime ore dell'alba del 6 giugno i tedeschi sopravvissuti ai bombardamenti vedono infatti l'impensabile. Un numero che sembrava incalcolabile di navi si stava avvicinando. Ecco, qui vorreste fermarmi perché già leggere i numeri relativi allo sbarco è veramente impressionante. Figuriamoci di trovarseli di fronte sapendo che il tuo lavoro sarebbe stato quello di fermare una tale orta. I numeri, o meglio le stime dei numeri, parlano, e ve li metto qua a schermo, di circa 150.000 soldati e quasi 7.000 imbarcazioni alleate, accompagnate da quasi 200.000 unità del personale di bordo della flotta alleata, mentre da parte tedesca si stimano circa 50.000 soldati e 170 cannoni e pezzi d'artiglieria in generale. Un'inferiorità numerica schiacciante che ricordo essere accompagnata da molti altri punti deboli, oltre che dall'effetto sorpresa. Ecco, messo così si tratta di un rapporto di forze talmente a favore degli alleati da far sembrare la scelta di impiegare così tante truppe un'esagerazione. Tuttavia bisogna sottolineare che al momento della pianificazione dello sbarco gli alleati sopravvalutano la condizione del nemico e delle strutture difensive e sono terribilmente preoccupati dalle condizioni meteo instabili che da sole avrebbero potuto sancire il fallimento dell'operazione. Pensate che subito dopo l'ordine di attacco Eisenhower sarà talmente pessimista da redigere preventivamente una dichiarazione per i media in cui ne annunciava il fallimento. Comunque per quanto riguarda le operazioni di sbarco ad inglesi e canadesi è assegnato il fianco destro dell'invasione, in particolare le spiagge Sword e Gold per i britannici e Juno per i canadesi. Il fianco sinistro invece è obiettivo degli americani, divise nelle spiagge di Omaha e Utah. Ecco, noi tutti abbiamo in mente scene di ferocissimi combattimenti, mitragliatrici che sparano a tappeto su uomini che corrono su spiagge in cerca di ripari, proiettili che volano e così via. Beh, questo è vero certo, ma lo è in parte. Per quanto riguarda Sword, Juno, Gold e Utah, gli sbarchi infatti incontrano strutture difensive già devastate dai bombardamenti ed eserciti con già molti feriti e morale in pezzi. Quindi le operazioni in realtà procedono tutto sommato senza troppi problemi. Certo, gli scontri ci sono e molte sono le vittime, come normale in una guerra, ma non si tratta certo di numeri eccezionali. Si parla infatti di circa 2000 perdite alleate spalmate sulle quattro spiagge, al netto di decine di migliaia di truppe sbarcate e nel giro di qualche ora tutti questi obiettivi saranno comunque conquistati. Tutti meno che uno, Omaha Beach. Qui le cose vanno fin da subito diversamente e in maniera disastrosa per gli alleati. Il supporto aereo e navale manca gran parte degli obiettivi strategici a causa delle fitte nubi e la marea porta parte dei mezzi da sbarco sotto il tiro diretto delle postazioni tedesche e parte invece vengono spinti troppo a largo, causando l'annegamento di moltissimi uomini appesantiti dai loro equipaggiamenti. Ecco che per di più, nel caos dei proiettili che ben presto si genera, i carri anfibi sono lanciati troppo presto e la maggior parte di essi affonderà prima ancora di raggiungere la spiaggia. I soldati che riescono a raggiungere la riva sono così sprovvisti dal supporto dei corazzati e devono farsi strada tra mine, granate e filo spinato, il tutto sotto il fuoco continuo dei soldati della Fermat, appostati nei bunker. Nonostante lo scenario terribile, le truppe sono scaricate comunque dai mezzi anfibi e una dopo l'altra sono mandate all'assalto. Si tratta letteralmente di un bagno di sangue. La situazione è talmente grave da far prendere in considerazione la ritirata e l'annullamento dell'intera operazione, mettendo a rischio anche soldati sbarcati nelle altre spiagge. Nonostante le preoccupazioni però, l'ordine d'attacco sarà mantenuto e man mano gli americani riusciranno ad ottenere il controllo di un metro di spiaggia in più, avvicinandosi poco alla volta alle fortificazioni nemiche, mentre tedeschi stavano ormai finendo le munizioni e il loro morale era a pezzi. Inevitabilmente, nonostante quindi la loro resistenza, i tedeschi saranno costretti alla resa. Lo sbarco era riuscito, ma per gli eserciti non era ancora il momento di riposare. Sarebbero infatti dovuti confluire sulle città di Cannes e di Cherbourg per stabilire il controllo della zona costiera. Il D-Day era riuscito, ma a fronte di moltissime vittime, quasi tutte causate dagli scontri ad Omaha Beach e dai bombardamenti alleati. Si parla di più di 10.000 perdite alleate tra le 5 e le 9.000 perdite per i tedeschi e intorno alle 3-4 migliaia di morti tra i civili francesi, tutte ovviamente in una sola giornata di combattimenti. Sul piano tattico però si tratta di un vero e proprio trionfo che apre le porte alla battaglia per la Normandia e più avanti alla liberazione della Francia. In poche parole, i soldati alleati avevano appena avverato l'incubo di Hitler. Bene ragazzi e ragazze, anche oggi abbiamo concluso il nostro video. Oggi video sullo sbarco in Normandia dove ho trattato alcuni elementi appunto di questa operazione militare. Se vi è piaciuto ma se volete sapere anche altro scrivetemelo nei commenti che mi fa sempre piacere, mettetemi un bel like se appunto avete apprezzato il video e iscrivetevi e noi ci vediamo la settimana prossima. A presto! Ciao!